Allora, sappiamo già che questo è un campionato dove la 15 ci porterà davvero a tante novità a livello di auto, di personaggi e adesso siamo qui per presentarvi uno, uno degli ultimi orevi della sezione giovani e qui con noi stasera Angelo Bieletti, buonasera Angelo Bieletti Buonasera, 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 perfetto, allora, vediamo con la macchina, è già sistemata, sì, quasi, stiamo facendo dei lavori e quasi pronti, allora, incominciamo un po', con che macchina parteciperà questa? 300 euro, perfetto, ascolta, prima di essere un pilota, seguimi per i ginkani, ti sei ritrovato in questo modo sbalzato? No, non so, io ero delle ginkani, ero appassionato delle ginkani e ora, no, che sono arrivato a 18 anni, che avevo la patente, allora posso fare le ginkani, perfetto, ascolta, quindi vediamo tu, hai qualche personaggio che insegna, qualcuno che cerchi più o meno di dare, o come aveva uno stile tuo? No, 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 quando ero piccolo, vedevo Donato Argentiero che era veramente bravo, allora, ero il suo fan, allora, no, e adesso, no, qua ce la faccio di ragionare, senti, abbiamo appena detto che non ti dai nella categoria giorni, la categoria che era l'anno scorso a portata alla vittoria, Alessandro Rigorio, quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Penso di prima non possiamo arrivare perché io ora cominciamo adesso. Se carico, vuoi tiratelo? Sì, sì. Pronto? Con il campionato 2015, Angelo. Grazie. Ciao.